Il generatore sta generando una frequenza di 21,5 MHz con un livello di meno 60 dBm. Solo portante. Questa portante viene interrotta da un tasto vulgaris che verrà usato per manipolare il segnale e trasformarlo in CW. Il segnale giunge all'ingresso antenna del ricevitore a valvole geloso G4216, che è un ricevitore di epoca a valvole. Adesso iniziamo con la ricezione in AM e io vado a manipolare una serie di tre segnali di SOS. TTTT, TATATATTTT. Passo in CW. Ritorno in AM. Risulta quindi chiaro che il segnale in questione del SOS dell'Iudica Cordiglia era un segnale manipolato in CW ricevuto da un ricevitore in AM.